In questo corso di intelligenza artificiale utilizzeremo come linguaggio di programmazione il Prologue. Utilizzeremo come testo di riferimento il testo di Ivan Bratko, Prologue Programming for Artificial Intelligence, che è ormai arrivato alla sua quarta edizione. Per quanto riguarda il percorso didattico, utilizzeremo anche le slide che il professor Bratko mette a disposizione come materiale aggiuntivo al libro e come linguaggio in particolare implementazione del Prologue utilizzeremo lo SWI Prologue, che è open source e quindi è liberamente scaricabile e installabile a partire da questo sito. Si tratta di una versione Prologue che risponde completamente alla sintassi di Edimburgo e che ha una lunga storia, perché ormai è una storia quasi trentennale e nasce per essere, come qui viene un po' proclamato in maniera altissimulante, Prologue per il mondo reale e comunque è, credo che sia, l'implementazione Prologue più utilizzata in questo momento nell'università per insegnare a programmare in maniera dichiarativa con il Prologue. Allora, io adesso suppongo che noi abbiamo già installato sulle nostre macchine questo SWI Prologue, comunque credo che la totalità degli esempi che faremo potranno essere interpretati anche da altri Prologue. In ogni caso, appunto, io farò riferimento a questa implementazione e in particolare io sto utilizzando una macchina con una versione, una distribuzione di Linux però, ripeto, penso che la stragrande maggioranza, penso la totalità in realtà, degli esempi che vedremo girano esattamente in maniera analoga anche su macchine Windows o Macintosh. Dunque, allora, che cosa dobbiamo dire innanzitutto? Suppongo quindi che abbiamo già installato il Prologue e quindi quello che noi dovremmo fare, sostanzialmente, è aprire un terminale e far partire questo SWI Prologue. Nella mia macchina con Linux basta scrivere il comando SWI Prologue che il Prologue parte. A questo punto, vediamo qui che è già partito l'interprete Prologue e quello che vediamo qui è un prompt con la quale l'interprete Prologue ci comunica che è in attesa che noi comunichiamo, lanciamo un gol e sostanzialmente dalla prima parte del corso abbiamo visto che cos'è un interprete Prologue è un Teore Improver che autorizza la SRD Resolution e suppone che dentro abbia un database di regole e fatti cioè di clausole che in qualche maniera sono già state caricate all'interprete e quindi l'interprete in questo caso è in attesa che l'utente faccia qualche cosa che può essere o caricare ulteriori danni ulteriori clausole che andranno a costituire il suo programma definito oppure che io lanci un gol in particolare questo prompt qui con il punto interrogativo e il trattino ricorda quello che sarebbe dovuto essere una freccia verso sinistra poi è stato scelto negli anni 80 quando c'era ancora solo l'asci quindi non avevamo le frecce il punto interrogativo piuttosto che la parentesi angolare a sinistra perché appunto il punto interrogativo ricorda che in pratica il Prologue è in attesa che si ponga una domanda quindi io in teoria potrei lanciare una domanda a cose di questo genere per esempio gli posso chiedere non so se Aldo gode la proprietà di essere un uomo ovviamente il Prologue non avendo io definito niente a riguardo del predicato uomo lancia un messaggio di errore dice che undefined procedure undefined predicate uomo ha un solo argomento e quindi non può rispondere sostanzialmente a questa domanda però ci sono tutta una serie di domande a cui già il Prologue senza aver caricato alcun predicato potrebbe rispondere perché risponde facendo riferimento a dei predicati built in delle clausole cioè built in che ovviamente fanno già parte del sistema Prologue dell'interprete Prologue che servono per gestire la macchina gestire l'input output ed altre cose in particolare ad esempio gli possiamo chiedere mediante questo predicato built in quali sia la directory di default con cui questo interprete sta da cui questo interprete sta andando a leggere eventuali informazioni che siano presenti su dei files questo predicato built in working directory ha due argomenti il primo argomento dovrebbe essere servirebbe per cambiare la working directory e quindi il primo argomento dovrebbe essere la vecchia working directory e il secondo argomento la nuova che l'utente vuole definire lanciato in questa maniera e cioè con una variabile ripetuta sia al primo che al secondo argomento ne approfitto per dire che in prolog le variabili sono contraddistinte dal fatto di avere un identificatore che inizia con la lettera maiuscola in questo caso abbiamo la D maiuscola ed è la stessa variabile beh lanciato in questa maniera in pratica il predicato built in ci restituisce quella che è la directory di lavoro corrente se io la voglio cambiare posso lanciare lo stesso predicato dicendo che al posto della vecchia directory di default ne ho su un'altra io mi sono già preventivamente creato una directory una sottorectorie di aldo prolog che ho chiamato prolog come vedete l'interpret prolog mi risponde true vuol dire che in pratica è riuscito a fare una rifutazione sld per questo per questo goal che ho lanciato utilizzando le clausole di programma definite che sono built in all'interno dell'interpret prolog stesso e in maniera che adesso non voglio assolutamente prendere in considerazione perché non fa parte di questa lezione introduttiva di fatto quello che il prolog è andato a fare è andato a settare una variabile interna dell'interprete prolog che che verrà utilizzata ogni qualvolta l'interprete prolog dovrà andare a consultare un file dove dentro ci siano per esempio dei programmi definiti caricati dall'utente attualmente la work in directory se io rilancio il comando io lo ripeto semplicemente utilizzando le frecce la frecce in alto mi consente di risalire nella storia dei gol che ho lanciato in questa sessione corrente del prolog quindi torno a lanciare di nuovo i gol che avevo lanciato precedentemente questa volta di nuovo abbiamo una refutazione che termina però istanziando la variabile di Aldo Prolog perché abbiamo cambiato la directory corrente ora detto questo cominciamo a lavorare appunto seguendo l'impostazione didattica del professor Bratko che inizia sostanzialmente tutto il suo percorso didattico utilizzando un esempio consideriamo un robot che sta manipolando dei blocchi su un tavolo il robot può vedere questi blocchi da una telecamera che è montata sul soffitto e il robot vuole sapere le coordinate dei blocchi se il blocco lo può prendere quindi non ha nessun altro blocco sopra eccetera si tratta in pratica di uno dei contesti dove hanno fatto parte anche qui della storia dell'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale ha usato questo dominio di blocchi come esempio in un meglio di casi in particolare nella pianificazione dunque questa sostanzialmente la situazione supponiamo che in un dominio cartesiano tridimensionale dove qui è rappresentato sul pavimento abbiamo questi cinque blocchi denominati ciascuno con un identificatore la lettera alfabeto e che sono in posizione su un dominio cartesiano discreto ovviamente così come definito nella figura che stiamo vedendo allora noi possiamo pensare di definire un predicato sì che ha tre argomenti dove il primo argomento è l'identificatore del blocco che viene visualizzato dalla telecamera e gli altri due argomenti sono le coordinate rispettivamente la x e la y del blocco sì vuol dire ovviamente che la telecamera che vi ricordo è posta sul soffitto è in grado di vedere quel blocco allora cosa noi possiamo fare noi possiamo a questo punto aprire un editore di testo di file di testo come ho fatto io e possiamo copiare letteralmente questi questi predicati anzi queste clausole all'interno del file di testo in pratica quello che stiamo facendo è se le avessimo iscritte con la notazione che abbiamo visto nella sezione precedente avremmo dovuto scrivere questa cosa qui cioè quelle che abbiamo inserito adesso sono sostanzialmente tre clausole adesso facciamo vedere tutto l'esempio e così anche la corrispondenza con il mio file di testo uno due tre clausole che hanno come predicato sono tutte uno due tre quattro cinque sei sette ed otto tre più cinque sono tutte clausole di programma unità in pratica stavo dicendo che sarebbero dovute essere scritte con la notazione che abbiamo usato nella prima parte di questo corso quella introduttiva sulla logica con questa notazione e vi ricordo che quando è nato il prologue c'era l'asci e non c'era l'isot 8.5.9 né l'unicode e quindi non potevamo rappresentare la freccia non potevano rappresentare la freccia con un carattere e quindi avrebbero dovuto usare due carattere ma poi appunto per non stare a complicarsi la vita hanno usato un solo carattere punto che sta a significare che semplicemente che la clausola è finita non c'è nessun'altra clausola il punto è quello che distingue all'interno in file di test è una clausola da altre quindi abbiamo tre clausole che costituiscono la cosiddetta definizione del predicato si vedo vedo A in coordinate 2.5 vedo D in coordinate 5.5 vedo E in coordinate 5.2 poi ad esempio prendo in considerazione anche un altro predicato che serve a descrivere lo stato del mondo è un predicato ON con due argomenti il primo argomento è il blocco che eventualmente sta su un altro e il secondo è il blocco che sta sostenendo il primo se è un blocco oppure il tavolo perché non l'avevo detto c'è un altro oggetto nel dominio che è il tavolo o il pavimento quindi se vogliamo descrivere le posizioni di questi cinque blocchi allora dobbiamo dire che A è su B B è su C C è sul tavolo D è sul tavolo ed E è sul tavolo questo è sostanzialmente l'insieme di predicati che descrive il nostro mondo e che si suppone che derivino siano la trascrizione dichiarativa in forma logica utilizzando il linguaggio dei predicati di informazioni che sono provenute dai sensori in questo caso in cui l'esempio che stiamo prendendo in considerazione deriva da un contesto robotico e quindi dal mondo fisico non abbiamo variabili come vedete perché appunto supponiamo che le informazioni sono state prese dai sensori che in eccezionali casi in qualche maniera sono mappabili su fatti che contengono eventualmente delle variabili perché tenete presente che qui stiamo parlando di clausole quindi la clausola la variabile eventualmente che compare da una clausola sarebbe quantificata universalmente insomma è un po' strano che un sensore possa produrre clausole in cui le variabili sono esistono delle variabili innanzitutto e poi queste variabili siano quantificate universalmente quindi normalmente i fatti sono tutti fatti ground a questo punto dobbiamo salvare il file e poi fare in maniera tale che l'interprel prolog possa caricarlo caricarlo vuol dire possa io ho chiamato questo file l'ho chiamato pl1.pl .pl normalmente viene utilizzato per venire utilizzato per contraddistinguere i programmi prolog in anni più recenti si è sovrapposto il linguaggio che si è diffuso più il Perl ma comunque adesso noi riutilizziamo il .pl perché nel mio sistema non c'è Perl installato e quindi non ho grossi problemi dicevo dobbiamo far caricare all'interprel prolog questo programma cioè farglielo leggere farglielo consultare e si potrebbe fare con un predicato consult in cui diamo il nome del file come argomento oppure semplicemente far mettere il nome del programma fra parentesi quadre e questo è un modo built in che l'interprel prolog utilizza per caricare programmi definiti cioè in pratica definiti normali poi vedremo in pratica quello che stiamo facendo è stiamo lanciando di nuovo un goal molto particolare in cui c'è un atomo che rappresenta il nome del file l'interprel prolog è costruito in maniera tale che a questo punto farà delle operazioni che sono possono sostanzialmente caricare sulla RAM le clausole che abbiamo definito nel file di testo mi risponde true perché è riuscito a fare questa operazione non ha avuto problemi e quindi a questo punto io posso fargli delle domande e per esempio gli posso chiedere se nel mondo che lui ha davanti che ha rappresentato all'interno del file esiste un blocco A e se esiste in che posizione sta il prolog ci risponde che si il blocco A esiste ed è in posizione 2 5 se avessi per esempio chiesto se esiste un blocco Aldo nel mondo mi avrebbe risposto falso non esiste nessun blocco etichettato Aldo all'interno del mondo oppure io posso chiedergli se vede dei blocchi indipendentemente dalla posizione che occupano queste due particolari variabili che sto utilizzando adesso le variabili che iniziano in questo caso hanno solamente questo simbolo l'underscore sono le cosiddette variabili mute vengono utilizzate nel processo di riflutazione come normali variabili semplicemente poi l'istanzazione che loro avranno come vi ricorderete a seguito della composizione di tutte le sostituzioni ottenute lungo la riflutazione che poi verrebbe limitata dalle sole variabili che c'erano variabili originari insomma queste istanziazioni di questi variabili non interessano all'utente si vede e quindi non vuole avere una risposta specifica su questo lanciamo quindi questo goal e il prolog termina e quindi ha prodotto una refutazione in cui la variabile blocco ricordo una variabile blocco è una variabile perché inizia con la B maiuscola è stata effettivamente istanziata la costante A ma l'avevo detto ovviamente tutti gli identificatori di blocchi sono delle costanti quindi ha avuto successo esiste un blocco e questo blocco si chiama A a questo punto però io mediante il punte virgola scrivendo punte virgola posso provocare il fallimento del goal il fallimento della refutazione che è stata prodotta cioè forza il backtracking vado a cercare se ci sono altri rami che terminano all'interno dell'albero SLD con la clausola vuota e in effetti viene trovato un altro ramo dell'albero SLD che termina con la clausola vuota e lungo quel percorso la variabile blocco è stata istanziata alla costante D quindi in sostanza mi ha risposto che c'è un altro blocco che si chiama D chiedo ancora se c'è un altro blocco quindi provoca ancora il fallimento si trova un altro percorso che termina con la clausola vuota quindi un altro percorso di rifutazione all'interno dell'albero SLD e poi il prologue si accorge che non ce ne sono più di alternative e quindi sostanzialmente l'albero è stato totalmente esplorato l'albero SLD quindi questo era un blocco finito un albero finito che ha tre percorsi che terminano con successo cioè con la clausola vuota quindi lo swipe prologue si è accorto che non ce ne sono altri altri prologue potrebbero invece non accorgersene oppure lo stesso swipe prologue in altri casi potrebbe non accorgersene e all'eventuale battitura di un altro punto e virgola avrebbe risposto come nelle slide no adesso concludiamo questa unità didattica introduttiva con quest'altro esempio supponiamo di voler chiedere all'interprete prologue quindi stiamo supponendo che questo interprete prologue sia l'intelligenza di un robot che si sta muovendo in un mondo gli chiediamo gli vogliamo chiedere se esistono due blocchi B1 e B2 che stanno sulla stessa Y torniamo a vedere l'esempio allora lui di blocchi che stanno sulla stessa Y ne vede due A e D che stanno entrambi sulla Y5 e quindi dovrebbe rispondere A e B vediamo un attimo cosa risponde vediamo e lo lanciamo il prologue e scusate era ripetuto due volte il prompt e in pratica il prologue ci risponde una cosa che potrebbe sembrare sorprendente e cioè ci dice che sì sono due blocchi che stanno sulla sulla stessa Y questi due blocchi sono identici e sono B1 è uguale a B2 e sono in pratica il blocco A che ci risponde anche che sta in posizione 5 e a questo punto noi potremmo essere non soddisfatti gli chiediamo ma ci sono altre soluzioni sì e dice lui c'è un blocco B1 che si chiama A che sta in posizione 5 e poi nella stessa posizione c'è un altro blocco B2 che si chiama D che era quella che ci aspettavamo poi gli chiediamo di nuovo ma ci sono altre soluzioni sì c'è un blocco B1 che si chiama D che sta in posizione 5 e l'altro è A e quindi ha un modo di lavorare che potrebbe al momento sembrare non molto intelligente addirittura ci dice come ulteriore soluzione che ci sono due blocchi B1 e B2 identici che stanno in posizione sulla stessa Y che è 5 e questi due blocchi identici sono il blocco D se poi gli chiediamo se ci sono ulteriori soluzioni ci dice sì ci sono ancora due blocchi che stanno sulla stessa Y che sono identici che sono il blocco E che sta in posizione 2 non ci sono altre soluzioni in pratica tutta questa ricchezza di risposta la maggior parte dei quali ci è sembrata poco intelligente è dovuta al fatto che noi abbiamo dato questo goal e cioè in cui chiedevamo se lui vedeva un blocco B1 qualunque questo sia in una qualche posizione Y e vedeva anche un B2 qualunque questo sia anche in una posizione Y non abbiamo specificato che e questo è un altro predicato built-in che andiamo a definire che B1 deve essere diverso da B2 rilanciamo adesso questo cioè la istanziazione della variabile B1 deve essere una costante in questo caso costante perché non abbiamo simboli di funzione in questo linguaggio che deve essere diversa dalla costante a cui viene istanziata la B2 a questo punto delle soluzioni di prima ne rimangono solo alcune in particolare rimane la soluzione che AB1 assegnava da a B2D come posizione 5 però in realtà potrebbe essere valida rispondere al goal che abbiamo dato che è un goal che si compone di 3 sotto goal questo fra l'altro è quello più a sinistra che viene utilizzato per primo poi verrà utilizzato questo poi verrà utilizzato questo ebbene sì e poi però questa volta non abbiamo altre soluzioni perché l'ultima soluzione quella che utilizzava il blocco E che è l'unico che stava in coordinate Y2 non soddisfa più il goal perché fallisce l'ultimo sotto goal che B1 sia diverso da B2 bene con questo ultimo esempio terminiamo questa prima unità didattica e nella prossima vedremo come alcuni altri esempi altre domande che possiamo fare su questo stesso esempio un'ultima un'ultima